Buonasera, come va? Allora, fa morire perché in classe si mettono sempre tutti all'esterno, nessuno centrale, bella questa cosa. Allora, come mai Marta ti sei messa lì perché non vuole farvi vedere le scarpe nuove? Marta si è messa di lato perché non voleva farvi vedere le scarpe nuove. Mamma mia, ciao Valè, come stai? Allora, raga, ciao Valè, partiamo? Avremo un warm up da 3 minuti, forse anche meno, ok? Ciao Virgì, ciao Alì. Ma non lo puoi fare con le tue foto, tu metti in mezzo e stai lì. Ecco, quello è il subito. Allora, dopodiché, sempre nel warm up avremo un warm up da 7 minuti. Ciao Anto, ciao Roby. Quindi partiamo subito, 10 minuti di warm up in totale con una pausa in mezzo e poi andiamo sui nostri tre circuiti. Allora, primo circuito. Partiamo con tre esercizi. Eccoli, ciao Cilla. Partiamo con tre esercizi. Allora, uno, due, tre. Uno, due, tre. Quattro minuti e mezzo di lavoro. Avremo dei semplici jumping jack, degli affondi alternati plank to down dog. Pia. C'è un messaggio nascosto dietro questa... Adesso ci alleniamo Pia. Allora, ragazzi, jumping jack, affondi alternati, plank to down dog. Ok? 45 secondi di lavoro a esercizio. Due round, senza pausa. Ogni 45 secondi partiamo con l'esercizio successivo. Otto, sei, sei. Tre, due, uno. Viamo. Eh, fammi cambiare perché è più giusto. Eh, perché è più giusto. Viamo, viamo, facciamo a tre. Ragazzi, sono 30 secondi. Sono 30. Ah. 20 secondi adesso. Come lo faccio. Vieni, si. half. Non, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 1, 10, 10, 10. Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Vai a tutti. 4 minuti. Grazie a tutti. Vai a tutti. sulle 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 con i piedi si fa il ritmo ma non ci si fa si fa il ritmo si 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 3 3 3 3 3 4 5 5 6 non lo vanno a più ragazzi scala il trombo qui scala il trombo non lo vanno a più Sì, amare. Oh, ok. Alla piano. Poi. Oh. e e il corpo è scuro e 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 ok avremo adesso due circuiti da tre esercizi in uno ok quindi serena sempre in si con calma serena serena vorrebbe partire subita con noi per poi morire piano serena che poi alla fine dici e piano con calma brava gaya allora andiamo subito a vedere va bene serena ma guarda che era un warm up e anche se ne hai fatto i 12 va bene lo stesso il problema è se tu ne avessi fatto i 13 o 14 perché poi tabellina del 3 non ci ritroviamo più però va benissimo così allora primo circuito vediamo a vedere allora ora qua da dove vedete come la fondo solo sulla gamba da qui portiamo il ginocchio in alto qui il ginocchio in alto solo da una parte ok ogni volta che il ginocchio sale andiamo ad effettuare una fresca torsione del bronco e andiamo a chiudere il bronco sul ginocchio chiaro? solo sulla gamba secondo esercizio occhio lavoreremo con un walking back quindi da qui giovi un po' un po' mano mano attenzione perchè ci mette il ginocchio rimane un po' su un braccio solo e poi quindi working back uno working back due working back uno ruolo e poi due si 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 Allora, primo giro è tutto 60 secondi, secondo giro è tutto 40 secondi, terzo giro è tutto l'inizio, quindi sono 6 minuti di lavoro senza la cosa, ok? Allora, ragazzi, 60 e 40 secondi, 6 minuti di lavoro senza la cosa, ora, non ho fiatato, eh, allora, ragazzi, dai qui partiamoci con 6 minuti di lavoro, 10 secondi di lavoro, 5, 4, 3, 2, 1, 12, io sono grande, ma non è fermato è difficile guarda solo questo guarda 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 Ah, terra! Guarda sul solo! E se? Sì! Ah! Guarda la giusta, senta qui! Alla! E' nata! E' nata! Alla scena è altruzzere la tua sola! Ah! Mi credo che questa boda lo sveglige sul di Trump Polizzi quando stiamo a fare cos' di nuovo! Ma, dimenticate bene la piattacia?! Eh? Ragazzi, dieci secondi! Oh, la, ah, ah! Dieci, nove, uno, sette, sei, 5,4,3,2,1 Gatti sui stretto Poggiungo Il clico di fare e farlo avanti al cibo E' un'altra parte 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 Sì! Alla! 30 secondi. Come un piede! Sulto un'altra carta Sonja 40 secondi! Pinteresso! Ahahahah! E' un'altra mano, un'altra mano! E' un'altra mano! Stai un'altra mano e il piede! E' un'altra mano! 5 8 3 2 1 40 secondi! L'altra ovesta! Quella è la tutta che ha conciato! Ehi! 30 secondi adesso! E' un'altra mano! E' un'altra mano! Non so io non uso eh! Siamo avanti! 20 secondi ora! e' un'altra mano! Winkiski! Sulit! Plàplà plà plà plà! Volto! Step in! Step! 2 4 3 4 1 1 metà, 4 secondi, non si freddo, non si freddo, suonano a scola, 3, e via, e porsi, percima secondi, e, e, oh, oh, sozi, No, andare in giro e lasciare. adesso stavolta 12 1 2 1 1 2 1 1 20 s con la gamba a destra non devi fermare l'ultimo euro Ehi! Viesce adesso! Noi! Voi! Sette! Sette! Voi! Ehi! Voi! Voi! Sette! 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 Voi! Voi! Tenno! Camas Blend isea! Ovvio! S których! Voi! Sette! 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 Voi! 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 As textł! Allora, bene sei minuti così, guarda come vuole. Allora, com'è? Come va? D'amici, ma stiamo venendo a portare con i negozi. Ragazzi, in fondo, tutto bene. Sei felice di essere un trattorato. In realtà no, perché se mi resta solo un tuo mano, quindi... Dovi fare più parmi. Allora, grande Teo, grande Sere, grande Serena. Allora, ragazzi, secondo circuito da tre esercizi. Grande Teo, grande Susi. Allora, primo esercizio. È finita, manca, c'è un'intervento di due. Sei finita di sparte. Allora, primo esercizio, Diamond Push Up. Allora, dovessi andare un po' più indietro, perché qui non avete mai fatto credo. Andami c'è. Va bene. Ok. Ok, chiudi i gomiti. Sì. Per poterle. Ok. Chiaro? Diamond Push Up. Chiudo, stringo i gomiti. E Alessandro, piano, 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 con calma. Tanto fino a meno un quarto sei qua con me. Non è che si vada a qualche parte. Puoi accoggiare tutto. Certo. Secondo esercizio, Squat Jump. Bravo, Alessia. Pensa che magari c'è chi non è battezzato, suda neanche l'acqua del battesimo. Squat Jump. Terzo esercizio, Mountain Climbers to Sit Up. Vediamo l'interpretazione. Tre Mountain Climbers to Sit Up. Oh, cazzo, l'ha preso. Ora, ora. Va bene, dai. L'ha preso, l'ha preso, l'ha preso. Raga, allora, per rendere un po' più fluido ci mettiamo un sit-through. Ok, in mezzo. Bravo, eh? Eh? Troppo in aglio. Sì, ragazzi, eh? Raga, diventa. Uno, due, sit-through. Sit-up. Uno, due, uno. Chiaro? Chiaro? Sì. Ok. Tre esercizi. Senti tutti i miei lavoro. Quanto facciamo? Che tempistica facciamo qua? Vi dico solo che dopo abbiamo l'ultimo circuito, eh? Quindi, vedete voi. Allora, Alessandro dice 45, 15. Lorenzo dice 30, 60, 30. No. No. Sì. 45, 15. Ragazzi, sa? Volete la pausa o la 60, 80, 80? Pausa. Massimo. Ma si pausa. 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 Qua tutti vogliono la pausa. Allora, guarda, facciamo 50, 10. Spostare. Eh? 50, 10, raga. Ok, 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 ok. 50, 10. Sei minuti di lavoro, eh? Come prima, abbiamo detto, diamond push up, ok? Squat jump, mountain climbers e sit up. Ogni tre mountain climbers, un sit up. Dieci secondi e partiamo. 5, 4, 3, 2, 1. E' una nuova, la nuova. Ogni volta, appoggia il petto a te l'è lato. A breve, a lezione, che se non ti avascio, giunto con l'unica ginocchia, e la foto sempre con l'unica, la foto di schia. Chiudi, chiudi, chiudi le mani. e si a ben as a una volta a l'vaso Gullicky è vaecco 3 con te com предложi un marca una volta in un dispeso 2 3 7 7 7 8 8 8 1 Videori Murato quadraticani になai ridiculous 60 in 3, 2, 1 Gavano, 4, 3 il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 15 secondi Sotto 7 6 5 4 1 3 2 1 Vieni Gana Un altro giro uguale 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 Dai un sciacco In 3 In 2 1 A terra a terra Mission Mission 1 Stemma a terra Tagli e passo Guardami 22 1 Sotto A poco Terno a terra E distingue le braccia 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 4 Vieni 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 30 20 20 22 22 24 23 24 e' un'esplosione e' un'esplosione e' un'esplosione e' un'esplosione Compris Molto molto bello allora come va? come state? l'ultimo circunico ok? massimo 8,10 minuti di lavoro è ben finito allora brava sera anche la mia fra un po' me la faccio tatuare allora abbiamo un po' di energia? si, lo voglio allora battesimo, comunione e cresima ah, tutto stai sudando allora raga dimmi Alessandro cos'è successo? dimmi allora bella adesso, o se per me io non ci sono allora, raga andiamo subito a vedere l'ultimo circunico è più o meno Scusi, ma non è proprio così non è come sembra allora guarda qua primo esercizio marquis quindi all the way down and all the way up ok? Alessandro era meglio prendere un po' di sport quello che costa la balosina adesso siamo dominati è un esercizio marquis metto a terra salto secondo esercizio pike push up spalla ok, proviamo a vedere così raga, il wifi il wifi massimo lo connetto al telefonino vediamo vediamo allora vai push up se è ripesso qua schnotta a terra spingo poi terzo interciso abbiamo degli affondi alternati qua qui è qui è ok non c'è non c'è anche un'interfonga alternati ultimo lavoro abbiamo benviato alternati qui poi ma adesso sono poi l'interfonga 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 alternati allora ragazzi le ramp sono 5 barbis 10 pike push up 12 affondi alternati 6 e 6 20 alternate via 10 e 10 allora avremo un imo ma da 2 minuti quindi il circuito il secondo sono dei pike push up se ne il circuito durerà 2 minuti dovremo farlo nel minor tempo possibile e recuperare ci metteremo più o meno 1 minuto e 20 andate al mio tempo ok come abbiamo fatto la volta scorsa vi do io il ritmo lento in 1 minuto e 20 lo finiamo recuperiamo e ripartiamo 45 giri 4 o 5 4 8 minuti di lavoro ma che bravo che sono se Federica dice 5 dicono dicono che qui a casa dice 5 non si sta allenando fatevi una storia veloce mentre fate tutto questo circuito da 10 minuti e poi loro mi credono raga 10 secondi partiamo 5 barbies 10 pike 12 affondi 20 via alternativa 10 secondi andiamo a 4 6 2 4 6 6 6 7 9 10 10 11 10 11 11 11 12 13 3 3 4 4 5 6 7 8 8 8 4 5 6 5 7 4 5 7 7 8 10 12 12 12 13 14 15 15 15 15 18 19 19 19 20 20 25 15 20 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 Siamo tutti, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno secondo giro, uno, due, tre, non, una lega danna con su隻ówrocco, due, due, tre, quattro, quattro, letra, sette, un pollo, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, Ui, opus. 5, 3, 7, 8, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23. Adesso, bene, io ci faccio un sacco, eh, e quattro minuti per il tempo di lavorare per finire, giusto? Sì, quindi andiamo e ti lasciamo più bravo. 15-6 giorni, ragazzi. Certo, giro. Dove. Adesso non è possibile prima, eh. Adesso si sta tornando su un passo. Sì, stai, 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 st . subito 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 vai dire spavaning dai rimas 소리 basta Oh Sì! Vieni a se conoscere! Il maratello è l'ultimo giro! L'ultimo giro! Ti amo, ti amo! Sì! 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 Vieni a se conoscere! Sì! 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 guarda la fine, la fine, la fine, la fine, tutti per mai, 30 adesso, io mi sarei finito tutti, 20 secondi, sono 15, ragazzi subì, 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, all'insieme, tempo, com'è? Marta si è palesata, adesso che è finito il circuito, sei il numero Y, va bene, non l'avevo mai sentita però grazie Susi, grazie, sei il numero Y, va bene, va bene, lo accetto dai, è come se fosse un complimento, grazie Susi Monzi, grande Roby, allora, raga, importante, domani sera ci si allena di nuovo, eh? Oh, Pia, ma io sono bravissimo con te, raga, domani sera ci si allena di nuovo, su NTC, quindi, se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app Nike Trading Club, ok, registratevi, domani vi rimetto il link, domani sera ci si allena alle 18, su Nike Trading Club app, ok? grazie Elisa, si è molto bella, femmina, femmina, allora, Cesare ha scritto, è finita al schifo, Cesare ti voglio bene anche io, allora, raga, ma si raga, rimane salvata su NTC app, ok? Raga, grazie mille, buona serata, ci vediamo o domani sera o settimana prossima, qui su YouTube, ciao!